Oggi in Camera di Commercio a Pescara è stata presentata questa interessante iniziativa che vedrà degli studenti, dei ragazzi dell'alberghiero De Cecco, partecipare ad uno stage a Malta in uno dei più famosi ristoranti dell'isola. Presidente, un'occasione per far crescere questi ragazzi, si parla di formazione scuola-lavoro e questo è proprio il significato di questa iniziativa. Sì, noi oggi presentiamo questo premio Astri Nascenti che abbiamo istituito in occasione della 33esima edizione di Mediterranea insieme all'istituto alberghiero Filippo De Cecco, alla preside Alessandra Di Pietro. Appunto abbiamo voluto istituire un format nuovo, due squadre di giovani studenti si sono cimentati in una competizione e oggi invece di regalare il classico attestato diploma abbiamo pensato a questo format di uno stage formativo presso un importante ristorante italiano a Malta, Il Ponte. Un'iniziativa importante, voi come Camera di Commercio state puntando molto sull'alternanza scuola-lavoro, su questo progetto che vedrà tanti ragazzi in seguito cercare un'occupazione dopo la scuola. Noi come Camera di Commercio rivestiamo un ruolo importante, vorremmo essere player sulla formazione, sull'alternanza scuola-lavoro e appunto abbiamo sollecitato attraverso questo premio anche altri istituti della provincia sia di Pescara che di Chiedi di partecipare a progetti che prevedono appunto questo percorso.